In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, il Comune ha firmato una convenzione con i centri diurni per adulti fuori dal circuito scolastico, che sono quattro. Più di 120.000 euro previsti nel piano sociale appena approvato, con l'obiettivo di migliorare la qualità del rapporto tra il Comune e le associazioni. Abbiamo trasformato queste convenzioni che prima erano a progetto e adesso invece diventano a stanziamento per ogni singolo utente seguito dalle associazioni. C'è il riconoscimento di una quota di 2.000 euro ad utente in caso di gestione non giornaliera, invece per chi gestisce le persone per tutta la giornata questa cifra si raddoppia. Si parte da una base di partenza di 120.000 euro stanziate nel piano sociale, ma abbiamo dei residui, delle altre annualità e anche la possibilità attraverso ulteriori risorse di dare una risposta puntuale alle esigenze della nostra comunità. Credo che sia un segnale di civiltà che proprio nella giornata mondiale della disabilità l'Aquila fa dimostrandosi ancora una volta attenta alle esigenze dei più bisognosi. Un cambio di passo importante con la convenzione sottoscritta con l'associazione Persone Down, APTDH, Abitare Insieme e Comunità 24 Luglio. Associazioni preziosissime per la città che con la loro opera silenziosa rendono la vita migliore delle persone con difficoltà. Si passa da contributi a progetto ad una cifra stabile. Questo è un passo in avanti importante che riconosce anche il valore delle associazioni. Il Comune quindi riconferma l'impegno iniziato e potenziato comunque anche con la carta dei servizi e con questa convenzione. Quindi viene previsto nel nuovo piano sociale distrettuale, quindi una somma che è a favore dei centri di urni. E' un impegno che il Comune ha preso e vuole potenziare nel corso del tempo. Anche perché il piano sociale distrettuale, gli assi tematici principali che sono il primo e il secondo, sono rivolti proprio alla disabilità che è il fido conduttore di tutto il piano sociale distrettuale.